Si fa sempre più concreta l'idea di un ufficio di collocamento immigrati all'interno dell'ex caserma Serena, un progetto tra l'altro primo in Italia che qualche giorno fa avevamo preannunciato e che oggi il sindaco ha ulteriormente confermato con dovizie di particolari. Noi abbiamo 550 persone all'interno della caserma Serena, alcuni hanno anche delle professionalità e quindi io ho voluto fare una grande ricognizione di quelle che sono le professionalità. Quindi insieme ai gestori della caserma abbiamo elaborato una tabella dove abbiamo messo muratori, elettricisti, camerieri. C'è anche un contenitore dove ci sono persone che non sanno fare nulla ma sono pronte ad imparare un mestiere, il tutto per favorire l'integrazione, il tutto per avvicinare questa emergenza umanitaria a un'opportunità che è quella del mondo del lavoro. Primo sostenitore dell'iniziativa è il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini che ricorda come vent'anni fa lui abbia gestito la prima immigrazione passata dalle tende e dalla rullotopoli di strada ovest alle case costruite dagli industriali a Caserma. Chiamo al rapporto anche tutti gli industriali perché è inutile pescare le persone che vanno bene se poi non trovano il posto dove abitare e tutto quanto. Quindi cari industriali dovete anche voi svegliarvi perché gli obiettivi si fanno tutti assieme. Un suggerimento che il sindaco Conte ha già raccolto. Se l'imprenditore trova soluzione a quello che è una sua esigenza legata alla mano d'opera uno sforzo importante lo può fare per accompagnare questi loro nuovi eventuali dipendenti anche in un inserimento abitativo facendo magari loro da garanti. Ma sottolinea Conte bisogna fare un passo alla volta. Ora è importante far partire questo ufficio di formazione e collocamento immigrati anche come risposta allo spaccio e alla microcriminalità. Chi si annoia, chi perde tempo rischia di finire in mani sbagliate. Chi invece ha voglia di integrarsi e mettere a disposizione la propria professionalità maturata nel tempo di sicuro si allontana dai brutti giri.